Randonautica ti porta in un viaggio di scoperta, può portare esperienze significative insieme a un gran divertimento mentre esplori il mondo intorno a te. Quello che avete ascoltato prima dell'intro e che vi ho letto è un piccolo passaggio della descrizione dell'app Randonautica, il cui scopo è quello di uscire dalla propria zona di comfort, sempre però nel rispetto delle leggi ed evitando situazioni pericolose. L'app lanciata nel 2020 è un po' strana perché promette di trovare tutto ciò che si desidera, è diventata famosa dopo il lockdown su TikTok dove i giovani condividono le scoperte più inquietanti, uno su tutte il ritrovamento di un cadavere all'interno di una valigia. Io però l'ho scoperta su YouTube tramite un altro friulano come me, Ale della Giusta, che probabilmente conoscete già, quindi se non avete visto il suo video andate a vederlo. Io però volevo provare a usare quest'app per vedere se è possibile scoprire posti inediti anche vicini a casa propria. L'app di per sé è abbastanza semplice da usare, basta scaricarla, una volta aperta, vedete che si apre, va inserita la propria posizione, l'app vi chiederà di pensare ad un desiderio materiale o immateriale che volete realizzare e attraverso un generatore di numeri quantici ci fornirà le coordinate di un luogo da esplorare appunto che dovrebbe avverare il nostro desiderio. Quindi direi di spostarci e provare quest'app, sempre sperando di non trovare cadaveri dentro le valigie. Ok, sono dentro l'app, ho già mandato la mia posizione, mi sono un pochino spostata da casa e possiamo scegliere tra tre posizioni da generare, gli attrattori che sono gruppi densi di punti casuali, i vuoti che sono l'opposto e le anomalie che sono le più potenti tra attrattori e vuoti. Io direi di fare un tentativo con gli attrattori, quindi mandiamo attrattore, scegli una fonte di entropia, andiamo su temporale, trovare un luogo, concentrati sul tuo intento. Non so se riuscirete a vedere ma mi ha generato appunto queste coordinate, quindi direi di andare sulla mappa, ne apriamo Google, quindi... 2,7 chilometri, sono in macchina ovviamente, e andiamo. Allora, io non so esattamente che cosa pensasse l'app che io pensassi e che io desiderassi, ma mi ha portato a praticamente due passi da casa e al momento sono parcheggiata, come vedete, vicinissima al punto e dovrebbe essere la casa che vedete di qua. Il problema è che c'è ovviamente il recinto e non so cosa dovrei cercare, quindi a questo punto... Ovviamente non posso entrare in casa, quindi direi a questo punto di cercare un'altra posizione suggerita dall'app. Allora, questo è quello che ho inserito, vuoto, temporale e questa è la posizione che mi è stata restituita. Allora andiamo sulle mappe, ok, eccola qua, sostanzialmente in mezzo a una vigna. Vediamo cosa succede. E' qui attaccata sostanzialmente, due minuti in macchina, meno di un chilometro, andiamo. Allora, l'auto l'ho lasciata vicino al cimitero, speriamo che non fosse quello il punto che dovevo raggiungere, ma sto procedendo a piedi e qui vedete la vigna che dovrei esplorare. Quindi vediamo un po' che cosa troverò. Ok, vedete un po' di riflesso ma dovrei essere più o meno in linea con la mia destinazione. E effettivamente un'anomalia c'è perché manca tutta l'uva, pur essendo i primi di settembre hanno già vendemmiato. Ok, sono davvero vicinissima, ho sbagliato tipo un paio di filari, quindi cerco di fare un po' di limbo qua sotto e ci siamo. Allora, io sono praticamente sopra al punto perché qua la mappa è ingrandita veramente tantissimo e per cui dovrei esserci. E l'unica cosa strana, possiamo dire così, è questa pietra qui che è assolutamente diversa da tutte le altre e anche decisamente più grande da quelle che ho trovato arrivando fin qua. Per cui direi che sembra quasi assurdo. Poi ovviamente sotto non c'è nulla ma effettivamente ho trovato qualcosa che è un'anomalia qua perché è un sasso diverso da tutti gli altri, più grande di tutti gli altri è appunto un conglomerato. Allora, io non so se effettivamente quest'app funziona, trova cose strane eccetera, però effettivamente è strano che mi abbia mandato in mezzo a una vigna stranamente, quasi stranamente già vendemmiata perché comunque sia non sono molte quelle già vendemmiate ai primissimi di settembre. E' strano che mi abbia mandato nel punto in cui c'era un sasso più grande di tutti gli altri e diverso da tutti gli altri perché appunto era un conglomerato, gli altri sono sassi tra virgolette normali, per cui direi che chi vuole crederci ci può credere. Se vi potrebbe interessare magari qualche altro video in posti ovviamente diversi rispetto a quelli che sono vicino a casa mia, ma fatemelo sapere con un commento. La cosa più assurda è che ho appena passato un cavallo, meglio un fantino a cavallo, quindi direi che quest'app forse funziona. Quindi se il video l'avete trovato in qualche modo interessante, avete scoperto quest'app e magari pensate di provarla, lasciate un like e se non lo siete iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!